Il settore medicale è senza dubbio uno dei principali campi di applicazione dell'industria del tessuto non tessuto e dei prodotti laminati in generale. Con la diffusione della pandemia di coronavirus, la domanda di dispositivi igienico-sanitari è aumentata in modo sostenuto. Tra questi possiamo menzionare camici e indumenti medicali, teli chirurgici, copricapo e copriscarpe, panni per la pulizia e mascherine protettive. Grazie alla soluzione per laminazione Acelli F-Line, sarai in grado di fronteggiare qualsiasi picco di produzione, mantenendo i parametri di qualità richiesti dal mercato. Ed inoltre avrai la possibilità di ispezionare il velo in tempo reale per segregare o per rimuovere eventuali difetti dal prodotto finito e monitorare e regolare tutti i parametri del processo come tensione, nip, torque e velocità di produzione. Contattaci per richiedere ulteriori informazioni e capire insieme quale soluzione risponde al meglio alle tue esigenze e a quelle dei tuoi clienti.